EPT Berlino 2010 Day 3, 119 3 years left, siamo al primo livello di giornata, ante 500, blinds 3.600. Qui abbiamo il tavolo numero uno, in fondo vediamo Joe Denysworth, uno dei protagonisti del Day 2, ha chiuso quinto nel cipo caso generale, quindi spagna William Corso, pro svedese di Poker Stars, con vari risultati all'attivo, ricordiamo anche il final table nel primo EPT di Sanremo del 2008. Abbiamo ancora 7 tagliani in gara, tra i quali il migliore è Amendola che ha appena fatto anche un piatto che avrebbe posto l'APG del nostro foro, andando al tavolo sulle troviamo Lusk, a fianco a Pavlovich. Ecco il nostro Luca Palaschi, il canica ZT, al tavolo con lui anche Armando Graziani. Qui di spalle abbiamo Luca Canelli e Maurizio Seppelli. Gli italiani sono seduti al tavolo assieme a due e due, non vado errato tra una Mendola e gli altri, stanno tutti accoppiati. No, tra una Mendola e con un Verone. E vediamo un po' come andrà al posto dei 3 EPT di Berlino. Grazie.